Eccoci qua! Sei pronta? Sì, andiamo! È un elicottero! Barbara, scendi! Che sollievo! Ecco il rifugio! Wow! Ma che ci fanno questi due qui? Ma paghiamo per farli andare via? Mai! Oro! Ha per fatto! Ti adoro un piccolo dolce lingotto d'oro! Cosa? Sei pronto a rinunciare il tuo figlio per l'oro? Potete riavere il vostro oro! Puoi tenerlo? È contaminato di povertà! Ma certo, eh! Questo mi fa andare fuori di testa! Potere degli elementi! Terra! Acqua! Fuoco! Wow! Ehi, fermi! Ci stanno guardando! Non è come sembra! Che figo! Adottatemi, per favore! Ciao! Ci piacerebbe essere i tuoi genitori! Tutti tranne voi! Perché non li piacciamo? Tesoro, per favore! Non arrabbiarti così! Dai, andiamo a casa! Che coppia di matti! È un disastro! Non se perde l'amore! Non piangere! Ora le faccio vedere! Ah, cavolo! Chiudete l'acqua! Pensi di salvarti con un ombrello? Potenza del fuoco! Ah? Ma... Cavolo! Ma si è bucato l'ombrello! Jake, guarda! E va bene! Mi avete convinto! Dove poi sarete i miei genitori adottivi? Benvenuti nel nostro orfanotrofio! I nostri bambini sono semplicemente splendidi! Stiamo cercando un bambino degno del nostro legnaggio! Oddio! Smettila di correre! Fidatevi di me! I nostri ragazzi sono super talentuosi! Fantastico! E noi non paghiamo spese! Siamo ansiosi di essere genitori! Ma che cosa c'è? Sto parlando! Divertenti, educati, curiosi... Arriva! Troppo rumorosa! Allora, va! Cosa? Ma non sono finiti! Ehi, avete visto per caso dove sono finiti tutti i ragazzi? Scrivetelo nei commenti! Oh, che fortuna! Ne è rimasta una! Sì! Barbara, tesoro è la nostra occasione! Diventeremo genitori! Tesoro, ora hai una mamma e un papà! Piano! Ma guarda tu questo! I miei capi lì sono molto preziosi! C'è anche Barbara! E va bene, aspettiamo! Basta! Fermati! Cosa ne pensa? Che cosa ci fa nel qui? Pandala fuori subito! Non la posso vedere! Te ne pentirai! Oh no! Niente può che nel mio laboratorio! Ecco! L'acconciatura è molto innovativa! Che hai fatto? Questo è un incubo! Prendi questo buon annulla! E tu! La mia testa! Wow! Che volume spavoditivo! Così denso! Trasformerò questa testa in un capolavoro! Ma che stai facendo? Non è mai abbastanza di questo prodotto? Basta! Stai rovinando tutto! Cosa? Va bene! Me ne vado! Incriati! È facile ferire un genio! Il mio giorno fortunato! Tempo di vendita! Un nuovo garzone! Pensi sia risolvibile? È difficile ma comunque fattibile! Per fortuna mi è rimasto un prodotto fenomenale! Solo ingredienti naturali! Wow! Sto benissimo! Ottimo lavoro! Grazie! Quando vuole! Ora avrai una bella sorpresa! Wow! Tesoro! Bel taglio! È ora! Acqua! Ma che cos'è? È stato già che sono sicuro! Scusa! Non è così male la situazione! Mamma! Papà! Non vedo l'ora di partecipare al concorso per famiglie! C'è anche un premio in denaro! Per favore! Anch'io voglio vincere! Al fuoco! Esme! Guarda da quella parte! Tesoro! Calmati un attimo! Ops! Siamo ansiosi di partecipare! Meno male! Gareggiamo! Ci divertiremo un sacco! Ne sono sicura! Ma non ci serve competere! Siamo già ricchi! Così non ti basta! Perché fare una gara? Ben! Ben! Ci sono anche loro! Cosa? Loro non possono vincere! Ci stiamo! Wow! Gara tra famiglie! Tesoro vinceremo! Tesoro vinceremo! E voi siete fritti! Ma ce l'ha con noi! Vi aspetterà una bella sconfitta! Pronti! Pronti! Partenza! Via! Attivazione velocità del vento! Mia moneta! Ferma! Cosa? Impossibile! La potenza del buco ti fermerà! Scotto! Mi gara! Cosa? Vai mamma! Vai mamma! Era magia! Mi sa di sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Sì! Siamo i campioni! Sì! Ho il premio! È nostro! No! È nostro! Fermi! Dove sono i bambini? Alice! Piccola! Esme! Dove sei? Magia! Aiutaci! Grande! Cosa? Tu e il tuo vento! Mancava un manifesto! Sei una cosa persa! Ma dove vai? La nostra ragazza! Incrociamo le dita! Speriamo di ritrovarla! Più poster! Più possibilità! Esme dove sei? Ma questo lo chiamano telefono? Ci serve un piano! Ci serve un indizio! Sento qualcosa! Ragazzi! Un hot dog! Secondo me è qui da un po' e sicuramente ha visto qualcosa! Facciamo un esperimento! Salve! Hot dog! Hai visto le nostre bambine? Ma certo! Erano proprio qui! Grazie hot dog! Andiamo! Ci siamo quasi! Ce la possiamo fare? Potere dell'acqua! Potenza del fuoco! No! Non funziona! Bambini! Siete qui! E poi! Ciao! Perché siete scappate? Siamo stati un sacco in pensiero! Noi veramente volevamo entrare al college degli elementi! Insegnano la magia! Beh! Se proprio lo volete! Ci pensiamo noi! Potere degli elementi! Sei pronta? Gli daremo il nostro potere! Guarda! Abbiamo la magia degli elementi! Grazie infinite! Prego! Crescono così in fretta! Wow! Siamo finalmente al college! Ogni elemento sta disegnando il suo segno a lezione di arte! La colla glitter può rendere bello qualsiasi disegno! Ritaglia gli stick di colla e cospargili di brillantini! Avvolgi nella gomma piuma glitterata! Attacca le fiamme scintillanti a una striscia di gomma piuma e avvolgi gli stick! Wops! Mi è caduto un tappo! Ne voglio uno anch'io! Anch'io? Anch'io non dico di no! Dov'è la mia colla? Ehi! L'avete presa tutta! Sono così arrabbiata! Ups! Allarme incendio! Fuoco? Che hai fatto? E' tutta colpa vostra! Quanti like ha ricevuto il mio TikTok? Quasi nessuno! E questo è un TikTok di quattro elementi! Ricevono sempre milioni di like! E' ingiusto! E' ingiusto! Terra? What? Ti becchi una F! Ma ho già preso una più! Altre F! Ecco fatto! Come faccio ad avere più like? Oh! Capisco! Ho capito che sta succedendo! Dovremmo girare un nuovo video! Ragazze! Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Aiutiamo il signorarci! Useremo i nostri superpoteri! Giriamo! Uno! Due! Tre! Quattro! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Fuoco! Sei il prossimo! Indovina chi ti ha toccato! Allora, chi è stato? Scrivilo qui sotto! Terra? No? Indovinello sbagliato! Va bene! Questa volta indovino di sicuro! Mark! Sì, Mark! Ora tocca a te! Chi di noi sarà? Sarò io! Indovina chi? È chiaramente aria! È così carina! Ops! Cosa stai facendo? Qualcuno ha bisogno di me! Collirio magico! Funziona all'istante! Wow! Posso? Ora lo provo! Ho bisogno di quelle gocce! Tocca a me! Dammele! Sguardo infuocato! È l'ora della pausa! Devo prendere quelle gocce! Aha! Cosa c'è che non va nell'insegnante? Aria? Aspettate! Ops! Che imbarazzo! Queste gocce magiche non sono uno scherzo! Volevo solo avere gli occhi magici come i vostri! Non ha funzionato! Ma è impossibile! Va bene! Le darò una mano! La risposta è acqua! Oh no! Dove l'hanno imparato? Siediti! Ops! Era la mia tazza preferita! Non volevo! Troverò a rincollarla! Non funziona! È così giù! Spero che questo possa sostituire la tazza rotta! Dipingi delle onde su una bottiglia di plastica! Crea della schiuma con la pasta per texture! Avvolgi il tappo con la gomma piuma! Vediamo! Acqua! Tè! Il tè freddo è ancora meglio! Ma anche caldo va bene? L'acqua è evaporata! Ottima tazza! Grazie! Sei stata fantastica! Questo è Mark! È così bello! Chi accompagnerà a casa oggi? Risolviamo la questione! Sasso carta forbici! Sasso carta forbici! Ciao Mark! Sasso carta forbici! Dai! Ragazze, che state facendo? Ehi! Cosa? Togliti di mezzo! Vai! Abbiamo da fare! Bene! D'accordo! Sasso carta forbici! Oh! Mark! Se ne è andato! Cosa abbiamo fatto? Ecco i risultati del test! Ops! La matita è rotta! Qualcuno ha un temperino? Arriva subito! Vola! Crea un imbuto di argilla leggera e incollaci un tempera matite! Avvolgi un filo in modo che sembri un tornado! Grazie! È un vero tornado! Nascondetevi! Ti stai nascondendo nel posto sbagliato! Le caramelle al miele sono il modo migliore per calmarsi! Ogni elemento ha un sapore diverso! Sono tornato! La lezione non è ancora finita? Peccato! La matita è ancora rotta! Qualcuno ha un tempera matite? Sì! L'abbiamo tutti! Oh no! Non ce la faccio! Gli elementi sono impegnati a fare le loro cose! Un manuale di istruzioni magico! Bingardium leviosa! Vola! Ha bisogno di aiuto! Potenza dell'aria! Ha funzionato! Aria, sei stata tu! Oh! Cos'è questo? Un germoglio sta spuntando dai miei capelli! Ragazze, avete delle forbici! No, mi spiace! Ma forse ne puoi trovare qualcuna nell'astuccio di fuoco! Wow, scotta! Taglia e piega un pezzo di cartone! Incollalo su un vecchio porta matite e aggiungi dei pezzi di cartone! Ricoprilo con vernice acrilica! Ritaglia dei mattoncini rettangolari con la gomma piuma e attaccali al cartone! Colorali con una penna rossa! Attacca la gomma piuma marrone alla parte superiore! Ritaglia il fuoco da una gomma da cancellare e dipingi! Aggiungi un pezzo di corteccia e un reticolo di gomma piuma! Riempi l'astuccio di matite con il materiale scolastico adatto! Acqua! Aiutami a raffreddarlo! Fatto! Cos'hai queste? Queste non sono forbici! Babbo Natale? Ciao, hai delle forbici? Buon Natale! Grazie, Babbo! Finalmente posso tagliare questo germoglio! Ma che pasticcio! Chi è stato? È stato lui! Non la passerai, Lisha! Nell'armadietto! Fai spazio! Dov'è? È meglio che non mi faccia arrabbiare! Facciamo partire la lezione di biologia! Pianteremo delle piante grasse! Sì! Ripetete dopo di me! Ups! Non volevo! Wow! Vola! Funziona! Oh! Il mio tesorino verde! La magia mi aiuta a far crescere la mia pianta! Wow! È un'altra! Aspetti! Non tocchi quel vaso! Ho piantato il mio quaderno! Eccolo! Ma perché? Per farlo fiorire! Avvolgi la copertina di un quaderno nel feltro! Decoralo con rami, muschio... E fiori finti! E fiori finti! Aggiungi una coccinella di plastica e un segno della terra fatto con la gomma piuma! Piega la carta alcune volte... E ritaglia un fiore 3D! E ritaglia un fiore 3D! Incollalo nel quaderno! Aggiungi un segnalibro a forma di erva! È assurdo! Cos'altro c'è nascosto dentro? Sembra che non ci sia nulla! Mister Archie è ovviamente fuori di testa! Gli elementi stanno studiando! Tutti tranne aria! Perché non stai studiando? Il cielo è così bello! Che non riesco a togliere lo sguardo! Il cielo? Dovremo eliminare la distrazione! Ma perché? Torna al lavoro! È così severo! Meno male che ho una scatola per le nuvole! Taglia una parte di una scatola di plastica Crea una nuvola con la carta adesiva E incollaci sopra un'imbottitura in poliestere Ritaglia un sole in gomma piuma Attacca la decorazione alla scatola con un filo da pesca Ti stai distraendo di nuovo? È solo un astuccio! Bene! Ma ti tengo d'occhio! Ma certo! E io osservo le nuvole! Il cielo è davvero fantastico oggi! Tirate fuori le penne E prendete appunti! Odio prendere appunti! Ho dimenticato lo zaino! Mi farò prestare carta e penna da misterarci! Ehi! La mia penna preferita è sempre con me! Avvolgi una penna nell'argilla E crea dei germogli Ritaglia una foglia da una gomma da cancellare Attacca una catenella e fissala alla penna Decorala con fiori e foglie Carino! Wow! Aspetta! Anche io decorerò il quaderno! Cos'è questo? Per fortuna ho una gomma da cancellare Risolve tutto facilmente Mano sinistra verde! No! Ti sbagli! Continuano a litigare! Ma le conosci le regole? Non ti ascolto! E la menti! Come punizione per non aver fatto il vostro lavoro Andrete in prigione! Non è giusto! Terra continua a infrangere le regole! Basta! Venite qui! È solo colpa vostra! Andate nelle vostre celle! E pensate a quello che avete fatto di sbagliato! Sono furiosa! Martin è così carino! Prigione! Seriamente! Dobbiamo uscire! Ma come? Lo so io! Rompiamo la serratura! Ti aiuto! Proverò a fonderla! Non ha funzionato! Provo ad aprirla io! Non funziona! Ma ora è bella! Grande! Certo! Idea! Possiamo fare un vulcano insieme! Uniamo le forze! Taglia un pezzo di una candela scura! Lima i bordi per dare forma al cratere di un vulcano! Mettila su carta da forno e sporca la di cera nera fusa! Versa la cera gialla fusa nel mezzo come lava! E fai delle gocce di lava calda con la cera rossa! Fatto! Ora aggiungiamo il fuoco! L'eruzione scuote tutta la prigione! Ma la serratura è ancora lì! Abbiamo bisogno di aiuto! Acqua! Ci sei? Hanno bisogno di noi! Ehi! Ben salato sulla serratura! Arriva! È andata in cortocircuito! Ups! Chi ha spento le luci? Cercate di nuovo di scappare? Vi faccio vedere io! Oh! La freccia è volata via! Perché siete così rumorose? Smettetela! Fuoco ha scritto una nuova canzone super bollente! Non lo sopporto più! Mi servono le cuffie! Piega una striscia di carta crespa! Fai dei tagli verso il centro! Avvolgila per creare dell'erba decorativa! Rivesti una custodia per cuffie! Ah! Il suono della foresta! Così rilassante! Fuoco! Abbassa la voce! Cuffie? Ehi! Terra! Terra non mi sente! Terra! Che c'è? Niente cuffie in prigione! Le requisisco! Chissà cosa sta ascoltando! La foresta è così bella! Amo ogni singolo albero! Ogni singola foglia! Chi è questo? Un orso! Ti amo, orso! Unicorno! Sto arrivando! Si comporta in modo strano! Qualcosa non va! La natura è bella! Basta annusare queste foglie! Ah! Il paradiso! Vieni, unicorno! Abbracciami, orso! La vita è meravigliosa! Smettila! Oh! Riprenditi le tue cuffie! La mia musica farà addormentare la guardia! Infila diversi cristalli decorativi su una corda scintillante! Crea diversi fili! Uniscili e incollali su una nuvola di perle! Aggiungi un anello! Soffierò forte per farlo dormire! Ma il vento si è trasformato in tempesta! Ops! Aria! Che fai? Mi dispiace! Non volevo! Dobbiamo fare qualcosa! C'è vento oggi! Ciao, Edward! La guardia è nell'occhio del ciclone! Cosa sta succedendo? Smettila! Aria! Ci socchierai via! Penso di avercela fatta! E non farlo mai più! È così divertente! Potrei guardare Troom Troom per sempre! Oh no! Il mio telefono è morto! Come posso ricaricarlo? Idea! Aria! Attacca questo alla tua turbina eolica! Voglio caricare il mio telefono! Ok! Wow! Funziona! Grande! Dov'ero rimasto? Blue! Perché mi hai spaventata? Ho un cortocircuito! Grande! Ora il mio telefono è rotto! Ehi! Posso avere dell'acqua? Sì! Te ne verso un po' Nessun problema! Grazie! Terra! Potresti darmi delle foglie di tè? Certo! È bergamotto, vero? Aha! Fuoco! Fai bollire l'acqua! Ok! Ah! Scotta! Grazie! Tè caldo! Mi son bruciato la lingua! Aria! Raffreda il mio tè! Basta così? Grazie! Ufff!